Ho il covid, no non è uno scherzo ho davvero il covid ma visto che non ho da fare letteralmente un cazzo Giocherò a minecraft, ho deciso di fare prima fra dei scheletri Anche perchè quella lì è molto utile per molto altro oltre che all'xp e mi serve principalmente xp immediato Adesso giocare col covid sarà un'esperienza unica e indimenticabile Ma non so perchè io sto facendo le cose, perchè io sto facendo le cose, perchè ho il covid, ho il covid, ho il covid È un titolo che tra l'altro è molto kickbait, gioco a minecraft con il covid, let's go Tra l'altro non mi sono neanche andato a studiare bene come fare una farm di scheletri Forse vorrò i lupi, perchè ti aiutano a uccidere i mob senza che tu debba fare nulla alla fine Quindi cosa succede? Che schiavismo, come al solito In minecraft fai lo schiavista o non sei un cazzo di nessuno Capito bambini, capito bambini, dovete fare gli schiavisti da grandi, cazzo Una cosa che mi servirebbe è la soul sand credo Quindi mi sa che andiamo anche nel nether oggi Ma io volevo clickbaitarlo in un altro titolo che andava nel nether, no Lo mettiamo qua il portale Ma sì, dai che cazzo ce ne frega O qua Oh sì, era tutto distrutto Mi piace questa finestra che dà su un blocco di ossidiano Oddio Quindi potrei metterlo semplicemente sul muro a destra qua Perché sono stupido, perché sono stupido nel cervello Cioè un posto perfetto dove mettere qualcosa No, mettiamolo in un posto in cui non c'è tra un cazzo e sta soltanto in me Proprio stylish Stylish Boom Let's go, andiamo a dormire nel nether Uii Sawasalau Dimmi che non sono in mezzo alla lava, ti prego No, e sono in un bioma della madonna in realtà Qua possiamo fare anche una farm di enderman E non abbiamo neanche problemi per quanto riguarda piglin o oglin nello spawn È uno spawn della madonna È indubbiamente uno spawn della madonna Let's go Soul sand Allora, il mio obiettivo per il momento è quello lì C'è un amico frizzo Ehi, con la mascherina Non è andato Puoi evitare di vivere Raggiù Bravissimo Non mi sto collegando addosso E questo E Un paio di questi Missione adibita con successo Con sulcesso Principalmente non ho assolutamente voglia di Mamma mia, ma che culo Ma che culo Che culo C'è la fortress lì Poi c'è la bastion dall'altra parte Se io fossi il mio portale Dove sarei? Mi sa che costruisco un altro portale Aspetta che guardo tutti qui Niente di me che mi capi Scusami Scusami Perché sono a altezza a meno 51? Cosa essere successere? Vabbè, figo Io intanto prendo un po' di materiale Oh no, degli scheletri Tutti con la mascherina Che roccia è questa? Ah C'è un geode Sai cosa volevo anche questa pietra qua? Perché è proprio È quel bianco Che tu dici È marmo È praticamente marmo Ma in realtà è calcite È una roba del genere Però è figa Guarda Qua Qua Guarda È marmo È marmo Ma non sono così lontano da casa Come non detto Sono lontanissimo da casa Sono dall'altra parte del mondo Vabbè Andiamo a vedere che cosa c'è in quella nave Intanto Un bel diamante Un bel diamante Cazzo Ma che villaggio è? Guarda che brutto È proprio brutto sto villaggio Mamma mia Guarda che screanzati Tutti con la mascherina Sotto al naso Ok Siamo tornati a casa Come avete visto In questo episodio Abbiamo trovato già tutto Cazzo Sono molto contento Dei risultati raggiunti In questo ultimo periodo Dal mio mondo di Minecraft In hardcore L'unico problema è che ho il covid Però Dettagli no? Dettagli Dettagli Ecco Un'altra cosa che voglio fare Il prima possibile È automatizzare tutte ste farm qua La farm di carote La farm di sugar cane La farm di qualsiasi Io non voglio più starci dietro Ok? Perché starci dietro vuol dire Perdere tempo E il tempo è capitalismo Ragazzi Il tempo è capitalismo Andiamo a vedere la farm Di scheletri E cosa riusciamo a farci La linea teorica dovrebbe essere Qui intorno Ma non mi ricordo assolutamente dove Let's go Let's go Let's go I rapislazzoli Ho appena avessato attraverso un muro Molto interessante Lo uso la x-ray raga Tra l'altro nell'ultimo episodio C'era qualcuno che mi stava chiedendo Se usavo La internal Delle shader Sì è la internal E queste qui sono le mie impostazioni Se volete guardarle Ho fatto una cazzata Mi raccomando Non perdiamo tempo Nell'episodio Perché tanto non ho tipo 20 minuti Che mi rimangono Abbiamo una stanzetta No bella privata Papa peper Papa peper E qua c'erano le Da dove cazzo sei spuntato tu Scusami No gravissimo Gravissimo Questo qua bisogna tapparlo assolutamente Perché se ci spawn Un creeper in testa Noi muoriamo 6 volte Ci abbiamo delle torce in realtà Quindi volendo un po' la zona Possiamo evitare gli spawn Qui sotto Ci sono dei diamanti Let's go Let's go E mi sa che sotto Purtroppo non riuscirò A andarci Né farci nulla Cazzo Quanto voglio di esplorare Quella parte della caverna Per vedere se ci sono Di altri diamanti Ma il mio obiettivo Non è trovare diamanti In questo momento Devo pensare al mio obiettivo Il mio obiettivo È fare sto cazzo Di spawner di merda Io non posso Non posso Ok non posso Non posso Non posso Non posso Non capisci che non posso Non posso vedere Tutto questo ben di dio E non prendere nulla Sei un mostro Ma sono assurde Guarda che vena Guarda che vena Io ho due secondi Che sono qua Per fare uno spawner Per fare uno spawner Ho già praticamente Un'altra armatura Di diamante Devo fare uno spawner Io in questo episodio Non trovare 24.000 diamanti No è assurdo 1.18 comunque Best versione Più assurda del mondo Incredibile Io ogni volta Mi sento come Jurassic Park E Tu ru 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 ru